Come ti devo chiamare? I gendarmi sono andati a prendere i miei figli. Me li hanno rapiti per darli a quelli della Childa dell'Anstrasse. I figli degli Ennis. Ti ricordi, no? Se ti hanno preso i figli, ci sarà stato un motivo. Li mandavi a scuola? I miei figli erano ancora piccoli. Comunque sapevano un mucchio di cose che i vostri figli erano da non sanno fare. Forse avevano rubato. E' pieno di tuoi amici che rubano. Non avevano rubato niente. Se c'è gente dei nostri che ruba, fate bene a prenderli e metterli in galera. Se c'è uno stato che fa una legge idiota, cosa fate? Chi mettete in galera? Etria i Ennis. Per molti non vorrà dire molto, immagino. Un termine con assonanze vagamente orientali o tedesche. Eppure, se ci muoviamo un po' nei ricordi che sorvolano le nostre conoscenze, forse riusciamo a induarne il senso. Lubo, nuovo film di Giorgio Diritti, narra proprio la storia di uno jenisch. Uno zingaro, cioè. O un gitano, parola senz'altro più romantica. Siamo nel 1939, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. Hitler da un anno ha dichiarato l'Ancelus, l'annessione cioè dell'Austria alla Germania. E anche nella neutrale Svizzera, ora si comincia ad avvertire un vago sentore di guerra. Lubo Moser conduce una vita da nomade, come nella tradizione dei suoi antenati, e tira avanti esibendosi in strada, nella Confederazione Elvedica, con la moglie Mirana e i loro bambini. I suoi piccoli spettacoli sono leggeri come una fiaba e romantici come una storia d'amore. Ogni suo gesto è il suggello del connubio perfetto tra la sua famiglia e la vita itinerante che conducono. Le prime immagini ci raccontano proprio questo, un carrozzone tirato da un cavallo e una famiglia felice che girovagano da una piazza all'altra, dispensando sogni e favole. Ma la vita, si sa, non è una favola, anche se a volte ne ha le pervenze. E così una mattina Lubo viene strappato dal suo mondo e costretto ad arruolarsi nell'esercito per seguire il programma di difesa delle frontiere stabilito dal governo svizzero. Dopo alcuni mesi di servizio viene a sapere che i suoi figli sono stati strappati alla madre e consegnati a un istituto per il loro reinserimento in una vita lontana dalla strada e che la moglie, nel tentativo di fermare questo scempio, è stata uccisa. Da questo momento la vita di Lubo avrà un solo scopo, ritrovare i propri figli e vendicarsi. Comincia così un lungo periodo di fuga, un viaggio avventuroso in cui vedremo lo jenisch assumere un'altra identità e muoversi abilmente all'interno della buona società svizzera. Come ti devo chiamare? Reiter? Zucker? Lubo? Scopre nel frattempo che i bambini sono stati affidati da una fondazione a orfanatrofi e famiglie adottive svizzere, in ottemperanza al programma nazionale mirato a sradicare cultura e tradizione degli jenisch sui principi dell'eugeneutica. Mentre cerca i suoi figli, intrattiene relazioni sentimentali con donne dell'alta borghesia di Zurigo e, gravidare alcune di queste signore, è una delle sue vendette. Lasciare che il seme gitano circoli all'interno di una nazione che vorrebbe stirparlo è un modo per sopravvivere e per far sopravvivere l'essenza del suo popolo. «Also, io credo feste an una buona erzione. Nervi è la buona erzione». «Si possono dir non pensare, ma molti donne con unveragli eltri vengono. Vengono di Pederastati, di Cigunni, di Verbranchi, di Verraccati. Vengono all'inizio, vengono all'inizio in la società passi. che ci sono le persone che non potrebbero cambiare, che sono i cori sterilizzati». Il film narra dunque un'azione di pulizia etrica che lascia allibiti se si pensa che i fatti si svolgono nella civilissima Svizzera. Tanto più che l'azione ricalca in modo imbarazzante ciò che succedeva in Germania e in Italia nei confronti degli ebrei. Ecco dunque che il protagonista, interpretato da uno straordinario Franz Rogowski, si muove mutando continuamente, assumendo ora le sembianze di un ricco commerciante, austriaco, ora quelle di un padre ferito che cerca solo giustizia per sé e i propri figli. Il film, forse un po' lungo ma mai noioso, ha il pregio di raccontare una storia dimenticata o addirittura mai conosciuta. Il razzismo e le sue radici qui sembrano non avere patria. Il regista vuole enfatizzare questo concetto narrando una storia dimenticata, tratta dal romanzo Il seminatore di Mario Cavatore, che, come spesso accade, mette a confronto un piccolo uomo contro un gigante, un Davide contro Golia, per capirci. Uno stato ricco e potente che chiede a un uomo di difendere i confini della nazione e allo stesso tempo nega l'individualità delle sue origini, cercando di annullare l'esistenza della sua gente. È una storia di oggi, cioè fa parte di quelle storie che alla fine ci raccontano che l'uomo inciampa sempre un po' sulle stesse cose e che quindi servono, a mio avviso, perché al di là della bellezza che può essere il passare tre ore a vedere un'avventura, perché è anche un film d'avventura per certi aspetti, un film d'amore, ha cento cose, ma dentro, in queste cento cose, diciamo così, passa anche una riflessione sui limiti della società cosiddetta civile, e le contraddizioni, diciamo meglio, dove la vita delle persone certe volte si decide che debba essere diversa e non si capisce perché e non viene accettata questa diversità. Corsi e ricorsi storici, antiche atrocità che si ripetono nel tempo e che ancora oggi fanno parte del nostro quotidiano, purtroppo. Ecco, se questo film ha un merito, non è solo quello di avere un'ottima fotografia e un attore soordinario e di essere ben girato, ma soprattutto di raccontarci una storia che quasi nessuno conosceva e che, proprio per questo motivo, assume un significato, oserei dire, ancestrale, riconducendoci a situazioni che vorremmo non fossero mai accadute e che, invece, purtroppo, sembrano ancora essere di grande attualità. Se c'è uno Stato che fa una legge idiota, cosa fate? Chi mette in galera? Anche quell'ebreo che stava scappando da casa sua, stava scappando perché una legge, uno Stato, guidato da un pazzo, aveva deciso che non poteva più vivere come gli altri. E tu l'hai ucciso? E' una vittima di guerra. Una delle tante guerre idiote che rubano la vita. Infatti da chi comanda?